Prima sezione della vita nuova di Dante Alighieri. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Registrazione di Mary J. La vita nuova di Dante Alighieri. Dal capitolo 1 al capitolo 7. 1. In quella parte del libro della mia memoria, denanzi alla quale poco si potrebbe leggere, si trova una rubrica la quale dice, Incipit vita nova. Sotto la quale rubrica io trovo scritte le parole le quali è mio intendimento da esemplare in questo libello. E se non tutte, almeno la loro sentenzia. 2. Nove fiate già preso lo mio nascimento e ritornato allo cielo della luce, quasi ad uno medesimo punto, quanto alla sua propria girazione, 3. Quando alle mie occhi apparve prima la gloriosa donna della mia mente, la quale fu chiamata da molti Beatrice, li quali non sapeano che si chiamare. 3. Ella era in questa vita già stato tanto, che, nello suo tempo, lo cielo stellato era mosso verso la parte d'oriente delle dodici parti l'una d'un grado, sì che quasi dal principio del suo anno nonno apparve a me, ed io la vidi quasi dalla fine del mio nonno. 4. Apparve vestita di nobelissimo colore, umile ed onesto, sanguigno, cinta e ornata alla guisa, che, alla sua giovanissima età, si convenia. 5. In quello punto dico veracemente che lo spirito della vita, lo quale dimora nella secretissima camera dello cuore, cominciò a tremare sì fortemente che apparìa negli minimi polsi orribilmente, e tremando disse queste parole. 6. Ece Deus fortior me, qui veniens dominabitur mihi. 7. In quello punto lo spirito animale, lo quale dimora nell'alta camera, nella quale tutti gli spiriti sensitivi portano le loro percezioni, si cominciò a maravigliare molto, e, parlando specialmente agli spiriti del viso, sì disse queste parole. 8. Apparuit iam beatitudo vestra. In quello punto lo spirito naturale, lo quale dimora in quella parte ove si ministra lo nutrimento nostro, cominciò a piangere, e, piangendo, disse queste parole. 9. Eo miser, quia frequenter impeditus ero de inceps. 10. D'allora, innanzi, dico che amore, signoreggiò la mia anima, la quale fu sì tosto a lui disponsata, e cominciò a prendere sopra me tante sicurtade e tanta signoria, per la virtù che gli dava la mia imaginazione, che me convenia fare tutti li suoi piaceri compiutamente. 10. Egli mi comandava molte volte che io cercasse per vedere questa angiola giovanissima, onde io nella mia puerizia molte volte l'andai cercando, e vedeala di sì nobili e laudabili portamenti, che certo di lei si potea dire quella parola del poeta Omero. 11. Ella non parea figliola d'uomo mortale, ma di Deo. 11. E avvenia che la sua immagine, la quale continuamente me costava, fosse baldanza d'amore a signoreggiare me. 12. Tuttavia era di sì nobilissima virtù, che nulla volta sofferse che amore mi reggesse senza lo fedele consiglio della ragione, in quelle cose là ove con tale consiglio fosse utile a udire. 13. E però che sopprastare alle passioni e atti di tanta gioventudine, pare alcuno parlare fabuloso, mi partirò da esse, e trapassando molte cose, le quali si potrebbero trarre dell'esempio onde nascono queste, verrò a quelle parole le quali sono scritte nella mia memoria sotto maggiori paragrafi. 13. Poiché furono passati tanti die, che appunto erano compiuti li nove anni, appreso l'apparimento sopprascritto di questa gentilissima, nell'ultimo di queste die avvenne che questa mirabile donna apparve a me vestita di color bianchissimo, in mezzo a due gentili donne, le quali erano di più lunga età, e passando per una via, volse gli occhi verso quella parte ovvio, ero molto pauroso. 13. E per la sua ineffabile cortesia, la quale è oggi meritata nel grande secolo, mi salutòe, molto virtuosamente, tanto che me parve allora vedere tutti li termini della beatitudine. 14. L'ora che lo suo dolcissimo salutare mi giunse, era fermamente nona di quello giorno, e però che quella fu la prima volta che le sue parole si mossero per venire alle miei orecchi, presi tanta dolcezza, che come inebriato mi partìo dalle genti, e ricorsi allo solingo luogo d'una mia camera, e possimi a pensare di questa cortesissima. 15. E pensando di lei mi sopraggiunse uno soave sonno, nello quale mi apparve una maravigliosa visione, che me parea vedere nella mia camera una nebula di colore di fuoco, dentro alla quale io discernea una figura d'uno signore di pauroso aspetto a chi la guardasse. 16. E parea mi contante letizia, quanto a sé, che mirabile cosa era, e nelle sue parole dice molte cose, le quali io non intendea, se non poche, tra le quali intendea queste. 17. Ego dominus tuus. Nelle sue braccia mi parea vedere una persona dormire nuda, salvo che in volta mi parea in uno drappo sanguigno leggeramente, la quale io riguardando molto intentivamente, 17. E' una delle mani mi parea che questi tenesse una cosa, la quale ardesse tutta, e parea mi che mi dicesse queste parole, vide cor tuom. 18. E quando elli era stato alquanto, parea mi che disvegliasse questa che dormia, e tanto si sforzava per suo ingegno che la facea mangiare questa cosa che in mano li ardea, la quale ella mangiava dubitosamente. 18. E presso ciò, poco dimorava che la sua letizia si convertia in amarissimo pianto. E così piangendo, si ricogliea questa donna nelle sue braccia, e con essa mi parea che si negisse verso lo cielo. 19. E mantenente cominciai a pensare, e trovai che l'ora nella quale mi era questa visione apparita era la quarta della notte stata, sì che appare manifestamente che ella fue la prima ora delle nove ultime ore della notte. 20. Pensando io a ciò che mi era apparuto, propuosi di farlo sentire a molti, li quali erano famosi trovatori in quello tempo, e con ciò fosse cosa che io avesse già veduto per me medesimo l'arte del dire parole per rima, propuosi di fare uno soneto, nello quale io salutasse tutti li fedeli d'amore. 21. E pregandoli che giudicassero la mia visione, scrissi a loro ciò che io avea nel mio sonno veduto, e cominciai allora questo soneto, la quale comincia a ciascun'alma presa. 22. A ciascun'alma presa, e gentil core, nel cui cospetto ven lo dir presente, in ciò che mi rescrivan suo parvente, salute al lor signor, cioè amore. 22. Già erano quasi che a terzate l'ore, del tempo che onne stelle nelucente, quando ma parve amor subitamente, cui assenza membrar mi dà orrore. 23. Allegro mi sembrava amor tenendo me il core in mano, e nelle braccia avea madonna involta in un drappo dormendo. 24. Poi la svegliava, e de sto core ardendo, lei paventosa, umilmente pascea, a presso gir lo ne vedea piangendo. 25. Questo sonetto si divide in due parti, che la prima parte saluto e domando, risponsione. 26. Nella seconda significo a che si dè rispondere. La seconda parte comincia quivi, già eran. 27. A questo sonetto fu il risposto da molti di diverse sentenzie, tra li quali fu risponditore quelli cui io chiamo primo degli miei amici, e disse allora uno sonetto, lo quale comincia. 28. Vedesti al mio parere onne valore. E questo fu quasi lo principio dell'amistà tra lui e me, quando egli seppe che io era quelli che li avea ciò mandato. 29. Lo verace giudicio del detto sogno non fu veduto allora per alcuno, ma ora è manifestissimo agli più semplici. 4. Da questa visione innanzi cominciò lo mio spirito naturale ad essere impedito nella sua operazione, 5. Però che l'anima era tutta data nel pensare di questa gentilissima, onde io divenni, in piccolo tempo, poi di sì fraile e debole condizione, che a molti amici pesava della mia vista, e molti, pieni d'invidia, già si procacciavano di sapere di me quello che io volea del tutto celare d'altrui. Ed io, accorgendomi del malvagio domandare che mi faceano per la volontà d'amore, lo quale mi comandava secondo lo consiglio della regione. Rispondea loro che amore era quelli che così mi avea governato. Dicea d'amore, però, che io portava nel viso tante delle sue insegne, che questo non si potea ricoprire. E quando mi domandavano, per cui t'ha così distrutto questo amore? Ed io, sorridendo, li guardava, e nulla dicea loro. V. Un giorno avvenne che questa gentilissima sedea in parte ove si udiano parole della Regina della Gloria, ed io ero in luogo dal quale vedea la mia beatitudine. E nel mezzo di lei e di me, per la retta linea sedea una gentile donna di molto piacevole aspetto, la quale mi mirava spesse volte, maravigliandosi dal mio sguardare, che parea che sopra lei terminasse. Onde molti s'accorsero dello suo mirare, ed intanto vi fue posto mente, che, partendomi da questo luogo, mi sentio dicere appresso di me, vedi come que tale donna distrugge la persona di costui. E, nominandola, e ho intesi che dicea di quelle che mezzo era stata nella linea retta che movea dalla gentilissima Beatrice, e terminava negli occhi miei. Allora mi confertai molto, assicurandomi che lo mio segreto non era comunicato lo giorno altrui per la mia vista. E mantenente pensai di fare di questa gentile donna schermo della verità, e tanto ne mostrai in poco tempo, che lo mio segreto fue creduto sapere dalle più persone che di me ragionavano. Con questa donna mi cellai al quanti anni e mesi, e per più fare credente altrui, feci per lei certe cosette per rima, le quali non è mio intendimento di scrivere qui, se non in quanto facesse a trattare di quella gentilissima Beatrice. E però le lascerò tutte, salvo che alcuna cosa ne scriverò che pare che sia l'oda di lei. 6. Dico che in questo tempo che questa donna era schermo di tanto amore, quanto dalla mia parte, sì mi venne una volontà di volere ricordare lo nome di questa gentilissima ed accompagnarlo di molti nomi di donne, e specialmente nel nome di questa gentile donna. E presi li nomi di sessanta le più belle donne delle città dove la mia donna fue posta dall'altissimo Sire, e compuosi una pistola sotto forma di serventese, la quale io non scriverò. E non ne avrei fatto menzione se non per dire quello che, componendola, maravigliosamente adivenne, cioè che in alcun altro numero non soffersi lo nome della mia donna stare, se non in solo nove, tra gli nomi di queste donne. 7. La donna con la quale io aveva tanto tempo cellata la mia volontà convene che si partisse dalla sopradetta città e andasse in paese molto lontano, perché io quasi sbigottito della bella difesa che mi era venuta meno, assai me ne disconfortai, più che io medesimo non avrei creduto di Nancy. E pensando che se della sua partita io non parlasse alquanto dolorosamente, le persone sarebbero accorte piuttosto dello mio nascondere, propuosi di farne alcuna lamentanza in uno sonetto, lo quale io scriverò, a ciò che la mia donna fue emiriata cagione di certe parole che nello sonetto sono, sì come appare a chi lo intende. E allora dissi questo sonetto che comincia, O voi che per la via... O voi che per la via d'amor passate, attendete e guardate, se li è d'allora alcun, quanto mio grave. E prego sol che o dir mi sofferiate, e poi immaginate, se io son d'ogni tormento ostale e chiave. Amor, non già per mia poca bontate, ma per sua nobiltate, mi pose in vita sì dolce o soave, che io mi sentia dir dietro spesse fiate. Deo, per quò dignitate, cosí leggiadro questi lo core ave. Oro perduta tutta mia baldanza, che si movea d'amoroso tesoro, un dio pover di moro, inguisa che di dir mi vendo danza. Sì che volendo far come coloro, che per vergogna c'è la nor mancanza, di fuor mostro alla granza, e dentro da lo core strugo e ploro. Questo sonetto ha due parti principali, che nella prima intendo chiamare li fideli d'amore per quelle parole di Geramia profetta che dicono, O vos omnes qui transitis per viam, attendite e vedite, si est dolor sicut dolor meus, e pregare che mi sofferino dal dire. Nella seconda, narro là ove amore mi avea posto, con altro intendimento che le streme parti del sonetto non mostrano, e dico che io ho e ciò perduto. La seconda parte comincia quivi. Amor non già. Fine della prima sezione Sezione seconda della vita nuova di Dante Alighieri Questa registrazione LibriVox e di pubblico dominio Dal capitolo 8 al capitolo 12 8 Appresso lo partire di questa gentile donna, fue piacere del Signore degli Angeli di chiamare alla sua gloria una donna giovane e di gentile aspetto molto, la quale fue assai graziosa in questa sopradetta citare, lo cui corpo io vidi giacere, senza l'anima in mezzo di molte donne, le quale piangeono assai pietosamente. Allora, ricordandomi che già l'avea veduta fare compagnia a quella gentilissima, non poteo sostenere alquante lagrime. Anzi, piangendomi propuosi di dicere alquante parole della sua morte in guiderone di ciò che alcuna fiata l'avea veduta con la mia donna. E di ciò toccai alcuna cosa nell'ultima parte delle parole che io ne dissi, sì come appare manifestamente a chi lo intende. E dissi allora questi due sonetti. Li quali comincia lo primo, Piangete amanti, e lo secondo, Morte vilana. Piangete amanti, poiché piange amore, udendo qualca gion lui fa plorare, amor sente a pietà donne chiamare, mostrando amaro duo per l'occhi fore, perché vilana morte in gentil core, ha miso sul crudele ad operare, guastando ciò che al mondo è da laudare, in gentil donna sovra dell'onore. Audite quanto amore le fece oranza, che il vidi lamentare in forma vera sovra la morta immagine avvenente, e riguardava verlo ciel sovente, ove l'alma gentil già locata era, che donna fu di sì gaia s'ambianza. Questo primo sonetto si divide in tre parti. Nella prima chiamo e solicito li fedeli d'amore a piangere e dico che lo Signore loro piange, e dico, udendo la cagione perché piange, a ciò che s'acconcino più ad ascoltarmi. Nella seconda narro la cagione. Nella terza parlo d'alcuno orrore che amore fece a questa donna. La seconda parte comincia quivi, amor sente. La terza quivi. Audite. Morte vilana, di pietà nemica, di dolor madre antica, giudicio incontastabile gravoso, poiché hai dato matera al cordoglioso ond'io vado pensoso di te plasmar la lingua sa fatica, e s'io di grazia ti vuoi far mendica, convene si che o dica lo tu falar donni torto tortoso, non però ca' la gente sia nascoso, ma per farne crucioso chi d'amor per innanzi si notrica. Dal secolo è partita cortesia, e ciò che è in donna d'appreggiar virtute. In gaia gioventute, distrutta hai l'amorosa leggiadria. Più non vuoi discoprir qual donna sia che per le proprietà sue canosciute. Chi non merta salute non speri mai d'aver sua compagnia. Questo sonetto si divide in quattro parti. Nella prima parte, chiamo la morte per certi suoi nomi propri. Nella seconda, parlando a lei, dico la cagione perché io mi muovo a biasmarla. Nella terza, la vitupero. Nella quarta, mi volgo a parlare ed indefinita persona, avenia che quanto allo mio intendimento sia definita. La seconda comincia quivi. Puiché è data. La terza, quivi. E siu di grazia. La quarta, quivi. Chi non merta salute. 9. Ha preso la morte di questa donna a quanti die. Avenne cosa per la quale mi convenne partire della sopredetta cittade e irre verso quelle parti dov'era la gentile donna che era stata mia difesa, avenia che non tanto fosse lontano lo termine dello mio andare quanto ella era. E tutto ch'io fosse alla compagnia di molti, quanto alla vista, l'andare mi dispiacea, sì, che quasi li sospiri non poteano disfogare l'angoscia che lo cuore sentia, però ch'io mi dilungava dalla mia beatitudine. E però lo docissimo signore, lo quale mi signoreggiava per la virtù della gentilissima donna, nella mia immaginazione apparve come peregrino leggeramente vestito e di villi drapi. Egli mi parea disbigottito e guardava la terra, salvo che talora li suoi occhi mi parea che si volgessero ad uno fiume bello e corrente e chiarissimo, lo quale sen già lungo questo cammino la ovvio era. A me parve che amore mi chiamasse e dicessemi queste parole. Io vegno da quella donna la quale è stata tua lunga difesa e so che lo suo rivenire non sarà a gran tempi. E però quello cuore che io ti facea avere a lei io lo mecco e portolo a donna la quale sarà tua difensione come questa era e nominolami per nome sì che io la canobi bene. Ma tuttavia di queste parole ch'io te ho già ragionate se alcuna cosa ne dicessi dille nel modo che per loro non si discernesse lo simulato amore che tu hai mostrato a questa e che ti converrà mostrare ad altri. E dette queste parole disparve questa mia immaginazione tutta subitamente per la grandissima parte che mi parve che amore mi desse di sé e quasi cambiato nella vista mia cavalcai quel giorno pensoso molto ed accompagnato da molti sospiri appresso lo giorno cominciai diccio questo sonetto lo quale comincia cavalcando cavalcando l'aldir per un cammino pensoso per l'andar che mi sgradia trovai amore in mezzo della via in abito legger di peregrino nella sembianza mi parea meschino come avesse perduta signoria e sospirando pensoso venia per non vedere la gente a capochino quando mi vide mi chiamò per nome e disse io venio di lontana parte ov'era lo tuo cor per mio volere e recolo a servir nuovo piacere allora presi di lui si gran parte che li disparve e non ma corsi come questo sonetto ha tre parti nella prima parte dico sì come io trovai amore e quale mi parea nella seconda dico quello che li mi disse a vegna che non compiuta mente per tema che vea di scoprire lo mio segreto nella terza dico come li mi disparve la seconda comincia quivi quando mi vide la terza allora presi appresso la mia ritornata mi misi a cercare di questa donna che lo mio signore mi aveva nominato nello cammino degli sospiri e a ciò che lo mio parlare sia più breve dico che in poco tempo la feci mia difesa tanto che troppa gente ne ragionava oltre li termini della cortesia onde molte fiate mi pesava duramente e per questa cagione cioè di questa soverchievole voce che parea che mi infamasse viziosamente quella gentilissima la quale fu distruggetrice di tutti li vizi e regina delle virtudi passando per alcuna parte mi negò lo suo dolcissimo salutare nello quale stava tutta la mia beatitudine ed uscendo alquanto del proposito presente voglio dare a intendere quello che lo suo salutare in me virtuosamente operava undici dico che quando ella apparia da parte alcuna per la speranza dell'ammirabile salute nullo nemico mi rimanea anzi mi giugnea una fiamme di carità la quale mi facea perdonare a chiunque m'avesse offeso e chi allora m'avesse domandato di cosa alcuna la mia risponsione sarebbe stata solamente amore con viso vestito d'umiltà e quando ella fosse alquanto propinqua salutare uno spirito d'amore distruggendo tutti gli altri spiriti sensitivi pingea fuori gli deboletti spiriti del viso e dicea loro andate a onorare la donna vostra ed elli si rimanea nel luogo loro e chi avesse voluto conoscere amore fare l'opotea mirando lo tremare degli occhi miei e quando questa gentilissima salute salutava non che amore fosse tal mezzo che potesse obumbrare a me la intollerabile beatitudine ma elli quasi per soverchio di dolcezza divenia tale che lo mio corpo lo quale era tutto allora sotto lo suo reggimento molte volte si muovea come cosa grave inanimata sì che appare manifestamente che nelle sue salute abitava la mia beatitudine la quale molte volte passava e redundava la mia capacità dodici ora tornando a proposito dico che poi la mia beatitudine mi fu negata mi giunse tanto dolore che partito dalle genti in solinga parte andai a bagnare la terra da marissime lagrime e poi che alquanto mi fu solennato questo lagrimare misimi nella mia camera laovi o potea lamentarmi senza essere udito e quivi chiamando misericordia alla donna della cortesia e dicendo amore aiuta lo tuo fedele ma dormentai come uno pargoletto battuto lagrimando avvenne quasi nel mezzo dello mio dormire che me parve vedere nella mia camera lungo me sedere uno giovane vestito di bianchissime vestimenta e pensando molto quanto alla vista sua vi riguardava là ovvio giacea e quando m'avea guardato alquanto pareami che sospirando mi chiamasse e diceami queste parole allora mi parea che io lo conoscesse però che mi chiamava così come assai fiate negli miei sogni mi avea già chiamato e riguardandolo parvemi che piangesse pietosamente e parea che attendesse da me alcuna parola ond'io assicurandomi cominciai a parlare così con esso signore della nobiltade e perché piangi tu e quelli mi dicea queste parole ego tanquam centrum circuli cui simili modo se abent circonferentia partes tu autum non sic allora pensando alle sue parole mi parea che mi avesse parlato molto oscuramente sic io mi sforzava di parlare e diceali queste parole che è ciò signore che mi parli con tanta oscuritade e quelli mi dicean parole vogari non dimandare più che utile ti sia e però cominciai allora con lui a ragionare della salute la quale mi fue negata e domandailo della cagione onde in questa guisa da lui mi fue risposto quella nostra be 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 di te ragionando che la donna la quale io ti nominai nel cammino degli sospiri ricevea da te alcuna noia e però questa gentilissima la quale contraria di tutte le noie non degnò salutare la tua persona temendo non fosse noiosa onde conciò sia cosa che veracemente sia conosciuto per lei alquanto lo tuo segreto per lunga consuetudine voglio che tu dichi certe parole per rima nelle quali tu comprendi la forza che io tengo sopra te per lei e come tu fosti suo tostamente dalla tua puerizia e di ciò chiama testimonio colui che lo sa e come tu prieghi lui che li le dica ed io che son quelli volentieri le ne ragionerò e per questo sentirà ella la tua volontà la quale sentendo conoscerà le parole degli ingannati queste parole fa che siano quasi un mezzo sì che tu non parli a lei immediatamente che non è degno e non le mandare in parte senza me ove potessero essere intese da lei ma falle adornare di soave armonia nella quale io sarò tutte le volte che farà mestiere e dette queste parole lo mio sonno fu erotto onde io ricordandomi trovai che questa visione mi era apparita nella nonna ora del die e anzi ch'io uscisse di questa camera propuosi di fare una ballata nella quale io seguitasse ciò che lo mio signore mi avea imposto e feci poi questa ballata che comincia ballata i vo ballata io vo che tu ritrovi amore e con lui vada a madonna davante sì che la scusa mia la qual tu cante ragioni poi con lei lo mio signore tu vai ballata sì cortesamente che senza compagnia dovresti avere in tutte parti a dire ma se tu vuole andare sicuramente ritrova l'amor pria che forse non è buon senza lui dire però che quella che ti dei a dire sì com' io credo è ver di me adirata se tu di lui non fossi accompagnata leggeramente ti faria disnore condolze sono quando se con lui comincia este parole appreso che avrei chiesta pietate madonna quelli che mi manda a voi quando vi piaccia vole sed e li a scusa che la mi intendiate amore è qui che per vostra abiltate lo facce come voi viste cangiare dunque perché li fece altra guardare pensate voi da che non mutò il core dile madonna lo suo core è stato con sì fermata fede che in voi servir l'ha un pronto onne pensero tosto fu vostro e mai non s'è smagato se della non ti crede dì che domandi amor che salo vero ed alla fine falle un mio preghiero lo perdonare se le fosse annoia che mi comandi permesso che o moia e vedrassi obbedir ben servidore e di a colui che d'ogni pietà chiave avanti che sdonei che lei saprà contare mia ragion bona per grazie della mia nota soave riman tu qui con lei ed al tuo servo ciò che vuoi ragiona e se la pel tuo prego li perdona fa che li annunzi un bel sembiante pace gentil ballata mia quando ti piace movi in quel punto che tu nagie onore questa ballata in tre parti si divide nella prima dico a lei ove la vada e confortola però che vada più sicura e dico nella cui compagnia si metta se vuole sicuramente andare e senza pericolo alcuno nella seconda dico quello che lei si pertiene di fare intendere nella terza la l'incenzio del gire quando vuole raccomandando lo suo movimento nelle braccia della fortuna la seconda parte comincia quivi con dolce sono la terza quivi gentil ballata potrebbe già l'uomo appore contra me a dicere che non sapesse a cui fosse lo mio parlare persona però che la ballata non è altro che queste parole che io parlo e però dico che questo dubbio io lo intendo solvere e dichiarare in questo libello ancora in parte più dubbiosa e allora intenda qui chi qui dubita o chi qui volesse apporre in questo modo fine fine seconda sezione terza sezione della vita nuova di dante leghieri dal capitolo tredici al capitolo sedici questa registrazione librivox e di pubblico dominio tredici appresso di questa soprascritta visione avendo già dette le parole che amore mi avea imposte a dire mi cominciaron molti diversi pensamenti a combattere ed a tentare ciascuno quasi indifensibilmente tra li quali pensamenti quattro mi parea che ingombrassero più lo riposo della vita l'uno degli quali era questo buona è la signoria d'amore però che trai lo intendimento dal suo fedele da tutte le vili cose l'altro era questo non buona è la signoria d'amore però che quanto lo suo fedele più fede li porta tanto più gravi e dolorosi punti li conviene passare l'altro era questo lo nome d'amore è sì dolce ad udire che impossibile mi pare che la sua propria porrazione sia nelle più cose altro che dolce con ciò cosa che li nomi seguitano le nominate cose sì come scritto nomina sunt consequentia rerum lo quarto era questo la donna per cui amore ti stringe così non è come l'altre donne che leggeramente si muove dal suo cuore e ciascuno mi combattea tanto che mi facea stare quasi come colui che non sa per qual via pigli lo suo cammino e che vuole andare e non sa onde se ne vada e se io pensava di volere cercare una comune via di costoro cioè là ove tutti s'accordassero questa era via molto inimica verso me cioè di chiamare e di mettermi nelle braccia della pietà e in questo stato dimorando mi giunse volontà di scriverne parole rimate e dissine allora questo sonetto lo quale comincia tutti li miei pensier tutti li miei pensier parlano d'amore e hanno in loro sì gran varietate ch'altro mi fa voler sua potestate altro folle ragione al suo valore altro sperando ma porta dolzore altro pianger mi fa spesse fiate e sol s'accordano in querere pietate tremando di paura che enocore onde io non so da qual materia prenda e vorrei dire e non so ch'io mi dica così mi trovo in amorosa eranza e se con tutti vuoi far accordanza convenemi chiamar la mia nemica madonna la pietà che mi difenda questo sonetto in quattro parti si può dividere nella prima dico e suppongo che tutti i miei pensieri sono d'amore nella seconda dico che sono diversi e narro la loro diversitate nella terza dico in che tutti pare che s'accordino nella quarta dico che volendo dire d'amore non so da qual parte pigli matera e se la voglio pigliare da tutti convene che io chiami la mia nemica madonna la pietà e dico madonna quasi per disdegnoso modo di parlare la seconda parte comincia quivi e hanno in loro la terza quivi e so s'accordano la quarta quivi ond'io non so quattordici appresso la battaglia degli diversi tanzieri avvene che questa gentilissima venne in parte ove molte donne gentili erano adunate alla quaparte io fui condotto per amica persona credendosi fare a me grande piacere in quanto mi menava là ove tante donne mostravano le loro bellezze onde onde io quasi non sapiendo a che io fossime nato e fidandomi nella persona la quale uno suo amico all'estremitade della vita condotto a vea dissi a lui perché siamo noi venuti a queste donne allora quelli mi disse per fare sì che elli siano degnamente servite e lo vero è che adunate quivi erano alla compagnia di una gentile donna che di sposate era lo giorno e però secondo l'usanza della sopradetta cittade convenia che le facessero compagnia nel primo sedere alla mensa che facea nella magione del suo novello sposo sì che io credendomi fare piacere di questo amico propuosi di stare al servigio delle donne nella sua compagnia e nel fine del mio proponimento mi parve sentire un mirabile tremore incominciare nel mio petto dalla sinistra parte e distendersi di subito per tutte le parti del mio corpo allora dico che io poggiai la mia persona simulatamente ad una pintura la quale circondava questa magione e temendo non altri si fosse accorto dal mio tramare lavai gli occhi e mirando le donne vidi tra loro la gentilissima beatrice allora furono sì distruti li miei spiriti per la forza che amore prese veggendosi in tanta propinquittade alla gentilissima donna che non ne rimasero in vita più che gli spiriti del viso e ancora questi rimasero fuori dagli loro istrumenti però che amore volea stare nel loro nobilissimo luogo per vedere la mirabile donna e avenia che io fossi altro che prima molto midolea di questi spiritelli che si lamentavano forte e diceano se questi non ci infolgorasse così fuori dal nostro luogo noi potremmo stare a vedere la maraviglia di questa donna così come stanno gli altri nostri pari io dico che molte di queste donne accorgendosi della mia trasfigurazione si cominciarono a maravigliare e ragionando si gabavano di me con questa gentilissima onde l'ingannato amico di buona fede mi prese per la mano e traiendomi fuori della veduta di queste donne si mi domandò che io avesse allora io riposato alquanto e resurreciti li morti spiriti miei e li discacciati rivenuti alle loro possessioni dissi a questo mio amico queste parole io tenni li piedi in quella parte della vita di là dalla quale non si può teire più per intendimento di ritornare e partitomi da lui mi ritornai nella camera delle lagrime nella quale piangendo e vergognandomi fra me stesso dicea se questa donna sapesse la mia condizione io non credo che così gabasse la mia persona anzi credo che molta pietade le ne verrebbe e in questo pianto stando propuosi di dire parole nelle quali parlando a lei significasse la cagione del mio trasfiguramento e dicesse che io so bene che ella non è saputa e che se fosse saputa io credo che pietà ne giungerebbe altrui e propuosi lei di dire desiderando che venissero per avventura nella sua audienza e allora dissi questo sonetto lo quale comincia con le altre donne con le altre donne mia vista gabate e non pensate donna onde si muova ch'io vi rassembri si figura nova quando riguardo la vostra beltate se lo saveste non puoi riepietate temer piu contro me l'usata prova che amor quando si presso a voi mi trova prende baldanza e tante sicurtate che fere tra i miei spiriti paurosi e quale ancide e quo pinge di fore si che solo rimane a veder vuoi ond'io mi cangio in figura d'altrui ma non si ch'io non senta bene allore li guai de li scacciati tormentosi questo sonetto non divido in parti perchè la divisione non si fa se non per aprire la sentenzia della cosa divisa onde con ciò sia cosa che per la sua ragionata cagione assai sia manifesto non ha mestiere di divisione vero è che tra le parole dove si manifesta la cagione di questo sonetto si scrivono dubbiose parole c'è quando dico che amore uccide tutti i miei spiriti e li visivi rimangono in vita salvo che fuori degli strumenti loro è questo dubbio impossibile a solvere a chi non fosse in simile grado fedele d'amore ed a coloro che vi sono è manifesto ciò che solverebbe le dubitose parole e però non e bene a me di dichiarare cotale dubitazione a ciò che lo mio parlare dichiarando sarebbe in d'arno ovvero di soperchio quindici appresso la nuova trasfigurazione mi giunse uno pensamento forte lo quale poco si partia da me anzi continuamente mi riprendea ed eri cotale ragionamento mecco poscia che tu perviene a così dischernevole vista quando tu sei presso di questa donna perchè pur cerchi di vedere lei ecco che tu fossi domandato da lei che avresti da rispondere ponendo che tu avessi libera ciascuna tua vertude in quanto tu le rispondessi ed a costui rispondea un altro umile pensiero e dicea se io non perdessi le mie vertute e fossi libero tanto che io le potessi rispondere io le direi che si tosto com'io immagino la sua mirabile bellezza si tosto mi giunge uno desiderio di vederla lo quale è di tante vertude che uccide e distrugge nella mia memoria ciò che contro lui si potesse levare e però non mi ritraggono le passate passioni da cercare la veduta di costei ond'io mosso da cotali pensamenti proposi di dire certe parole nelle quali escusandomi a lei da cotale riprensione ponesse anche di quello che mi diviene presso di lei e dissi questo sonetto lo quale comincia ciò che m'incontra ciò che m'incontra nella mente more quand'io vegno a veder voi bella gioia e quand'io vi son presso i sento amore che dice fuggi so perirte noia lo viso mostra lo color del core che tramortendo avunque po s'appoia e per la ebrietà del gran tramore le pietre par che gridin moia moia peccato facce chi allora mi vide se l'alma sbigottita non conforta sol dimostrando che di me li dolia per la pietà che il vostro gabbo ancide la quale si cria nella vista morta degli occhi ch'hanno di lor morte voglia questo sonetto si divide in due parti nella prima dico la cagione perchè non mi tengo di gire presso di questa donna nella seconda dico quello che mi diviene per andare presso di lei e comincia questa parte qui vi e quando io vi son presso ed anche si divide questa seconda parte in cinque secondo cinque diverse narrazioni che nella prima dico quello che amore consigliato dalla ragione mi dice quando le son presso nella seconda manifesto lo stato del cuore per esempio del viso nella terza dico si come onnesicurtade mi viene meno nella quarta dico che pecca quelli che non mostra pietà di me a ciò che mi sarebbe alcuno conforto nell'ultima dico perchè altri dovrebbe avere pietà e cioè per la pietosa vista che negli occhi mi giugne la quale vista pietosa è distrutta cioè non pare altrui pello gabare di questa donna la quale trae a sua simile operazione coloro che forse vederebano questa pietà la seconda parte comincia quivi lo viso mostra la terza quivi e per la ebrietà la quarta peccato face la quinta per la pietà sedici appresso ciò che io dissi questo sonetto mi mosse una volontade di dire anche parole nelle quali io dicesse quattro cose ancora sopra lo mio stato le quali non mi parea che fossero manifestate ancora per me la prima delle quali si è che molte volte io mi dolea quando a mia memoria muovesse la fantasia ad immaginare quale amore mi facea la seconda si è che amore spesse volte di subito ma salìa si forte che a me non rimanea altro di vita se non un pensiero che parlava di questa donna la terza si è quando questa battaglia d'amore mi pugnava così io mi muovea quasi discolorito tutto per vedere questa donna credendo che mi difendesse la sua veduta da questa battaglia dimenticando quello che per a propinquare a tanta gentilezza ma divenia la quarta si è come cotale veduta non solamente non mi difendea ma finalmente disconfiggea la mia poca vita e però dissi questo sonetto lo quale comincia spesse fiate spesse fiate vegnonmi alla mente le oscure qualità che amor mi dona e venne mi pietà si che sovente io dico lasso avvienelli a persona che amor mi assale subitanamente si che la vita quasi m'abbandona campami uno spirito vivo solamente e qui riman perché di voi ragiona poscia mi sforzo che mi voglio attare e così smorto donne valor voto venio a vedervi credendo guerire e se io levo li occhi per guardare nel cor mi si comincia uno tremoto che fa dei polsi l'anima partire questo sonetto si divide in quattro parti secondo che quattro cose sono in esso narrate e però che sono di sopra ragionate non mi intrametto se non di distinguere le parti per i loro cominciamenti onde dico che la seconda parte comincia qui vi camor la terza qui vi poscia mi sforzo la quarta qui vi e se io levo fine della terza sezione quarta sezione della vita nuova di dante leghieri questa registrazione libri vox e di pubblico dominio la vita nuova di dante leghieri dal capitolo 17 al capitolo 20 17 poiché dissi questi tre sonetti ne li quali parlai a questa donna però che furono narratori di tutto quasi lo mio stato credendomi tacere e non dire più però che mi parea di me assai avere manifestato avvenia che sempre poi tacesse di dire a lei a me convenne ripiugliare matera nuova e più nobile che la passata e però che la cagione della nuova matera è dilettevole ad udire la dicerò quanto potrò più brevemente 18 con ciò sia cosa che per la vista mia molte persone avessero compreso lo secreto do mio cuore 19. certe donne le quali adunate s'erano dilettandosi l'una nella compagnia dall'altra sapeano bene lo mio cuore però che ciascuna di loro era stata a molte mie sconfitte ed io passando appresso di loro siccome dalla fortuna me nato fui chiamato da una di queste gentili donne la donna che mi avea chiamato era donna di molto leggiadro parlare sicché quand'io fui giunto dinanzi da loro e vidi bene che la mia gentilissima donna non era la mia con esse rassicurandomi le salutai e domandai che piacesse loro le donne erano molte tra le quali ne avea certe che si rideano tra loro altre v'erano che mi guardavano aspettando che io dovessi dire altre v'erano che parlavano tra loro dalle quali una volgendoli i suoi occhi verso me e chiamandomi per nome disse queste parole a che fine ami tu questa tua donna poiché tu non puoi sostenere la sua presenza dilloci che certo lo fine di cotale amore conviene che sia novissimo e poi che mebbe dette queste parole non solamente ella ma tutte le altre cominciarono ad attendere in vista la mia risponsione allora dissi queste parole loro madonne lo fine del mio amore fu già lo saluto di questa donna forse di cui voi intendete ed in quello dimorava la beatitudine che era fine di tutti i miei desideri ma poiché le piacque di negarlo a me lo mio signore amore la sua mercede ha posto tutta la mia beatitudine in quello che non mi puote venire meno allora queste donne cominciarono a parlare tra loro e siccome talora vedemo cadere l'acqua mischiata di bella neve così mi parea udire le loro parole uscire mischiate di sospiri e poi che o quanto ebbero parlato tra loro anche mi disse questa donna che mi avea prima parlato queste parole noi ti preghiamo che tu ne dichi ove sia questa tua beatitudine ed io rispondendo lei dissi cotanto in quelle parole che lodano la donna mia allora mi ripuose questa che mi parlava se tu ne dicessi vero quelle parole che tu ne hai dette notificando la tua condizione avresti operate con altro intendimento onde io pensando a queste parole quasi vergognoso mi partio da loro e venia dicendo fra me medesimo poiché è tanta beatitudine in quelle parole che lodano la mia donna perché altro parlare è stato lo mio e però propuosi di prendere per materia dello mio parlare sempre mai quello che fosse l'odo di questa gentilissima e pensando molto a ciò parei a mia vera impresa troppo alta materia quanto a me sì che non ardia di cominciare e così dimorai alquanti di con desiderio di dire e con paura di cominciare diciannove avvenne poi che passando per un cammino lungo lo quale sen già un rivo chiaro molto a me giunse tanta volontà di dire che io cominciai a pensare lo modo che io tenesse e pensai che parlare di lei non si convenia che io facesse se io non parlasse a donne in seconda persona e non ad ogni donna ma solamente a coloro che sono gentili e che non sono pure femmine allora dico che la mia lingua parlò quasi come per sé stessa mossa e disse donne che avete intelletto d'amore queste parole io ripuosi nella mente con grande letizia pensando di prenderle per mio cominciamento onde poi ritornato alle sopradette cittade pensando a quanti die cominciai una canzone con questo comincimento ordinata nel modo che si vedrà di sotto nella sua divisione la canzone comincia donne che avete donne che avete intelletto d'amore io vo con voi della mia donna dire non perch'io creda sua lauda e finire ma ragionar per risvolgar la mente io dico che pensando il suo valore amore si dolce mi si fa sentire che se io allora non perdessi a dire farei parlando in amorare la gente e io non vo parlarsi altamente ch'io divenisse per temenza vile ma tratterò dal suo stato gentile a rispetto di lei leggeramente donne e donne e donzele amorose con voi che non è cosa da parlarne altrui angelo clama in divino intelletto e dice sire nel mondo si vede maraviglia nel lato che procede d'un'anima che infin quassù risplende l'uccello che non ave altro difetto che dover lei al suo signor la chiede e ciascun santo ne grida mercede sola pietà nostra parte difende che parla dio che di madonna intende diletti miei or sofferite in pace che vostra spene sia quanto me piace là ov'è alcun che perder lei si attende e che dirà nello inferno o malnati io vidi la speranza dei beati madonna è disiata in sommo cielo or voi di sua virtù farvi savere dico qual vuol gentil donna parere vada con lei che quando va per via gita ne cor vilani amore un gelo perchè onne lor pensero agghiaccia e pere e qual soffrisse di starla a vedere diverria nobile cosa o si morria e quando trova alcun che degno sia di veder lei que prova sua virtùte che li avvien ciò che li donna salute e si l'umilia con gli offesa obblia ancor la dio per maggior grazia dato che non po' mal finir chi l'ha parlato dice di lei amor cosa mortale come esser po' si adorna e si pura poi la riguarda e fra se stesso giura che dio n'intenda di far cosa nova color di perle ha quasi in forma quale convenne a donna aver non for misura ella è quanto de ben po' far natura per esempio di lei bialtà si prova degli occhi suoi come che la li muova escono spiriti d'amore inflammati che ferron gli occhi a qualche a lor laguati e passan sì che il cor ciascun ritrova voi le vedete amor pinto nel viso l'ave non potei alcun mirar la fiso canzone io so che tu girai parlando a donne assai quand'io t'avrò avanzata or t'amonisco per ch'io t'ho alevata per figliuola d'amor giovane e piana che là ove giugni tu dichi pregando insegnatemi gir ch'io so mandata a quella di cui laude so adornata e se non vuoli andare sì come vana non restare ove sia gente vilana ingegniti se puoi d'esser pallese solo con donne o con omo cortese che ti merranno là per via tostana tu troverai amor con esso lei raccomandami a lui come tu dei questa canzone a ciò che sia meglio intesa la dividerò più artificiosamente che l'altra cosa di sopra e però prima ne fo tre parti la prima parte è proemio delle seguenti parole la seconda è lo intento trattato la terza è quasi una serviziale delle precedenti parole la seconda comincia quivi angelo clama la terza quivi canzone io so che la parte prima si divide in quattro nella prima dico a cui io dicer voglio della mia donna e perché io voglio dire nella seconda dico quale mi pare avere a me stesso quando io penso lo suo valore e com'io direi se io non perdessi l'ardimento nella terza dico come credo dire di lei a ciò che io non sia impedito da viltà nella quarta ridicendo anche a cui ne intenda dire dico la cagione perché dico a loro la seconda comincia quivi io dico la terza quivi e io non vo parlare la quarta donne e donzele poscia quando dico angelo clama comincio a trattare di questa donna e dividesi questa parte in due nella prima dico che di lei si comprende in cielo nella seconda dico che di lei si comprende in terra quivi madonna e disiata questa seconda parte si divide in due che nella prima dico di lei quanto dalla parte della nobiltà della sua anima narrando alquanto delle sue virtù di effettive che della sua anima procedeano nella seconda dico di lei quanto dalla parte della nobiltà del suo corpo narrando alquanto delle sue bellezze quivi dice di lei amor questa seconda parte si divide in due che nella prima dico da quante bellezze che sono secondo tutta la persona nella seconda dico da quante bellezze che sono secondo determinata parte della persona quivi degli occhi suoi questa seconda parte si divide in due che nella luna dico degli occhi li quali sono principio d'amore nella seconda dico della bocca la quale è fine d'amore e a ciò che quinci si lievi ogni vizioso pensiero ricordisi chi ci legge che di sopra è scritto che lo saluto di questa donna lo quale era delle operazioni della bocca sua fu e fine delli miei desideri mentre ch'io lo potei ricevere poscia quando dico canzone io so che tu aggiungo una stanza quasi come ancella dell'altre nella quale dico quello che di questa mia canzone desidero è però che quest'ultima parte è lieve ad intendere non mi travaglio di più divisioni dico bene che a più aprire lo intendimento di questa canzone si converrebbe usare di più minute divisioni ma tuttavia chi non è di tanto ingegno che per queste che son fatte la possa intendere a me non dispiace se la mi lascia stare che certo io temo d'aver a troppi comunicato lo suo intendimento pur per queste divisioni che fatte sono se li avvenisse che molti le potessero audire 20. Appresso che questa canzone fue alquanto divulgata tra le genti con ciò fosse cosa che alcuno amico ludisse volontade lo mosse a pregare me che io li dovesse dire che è amore avendo forse per l'udite parole speranza di me oltre che degna onde io pensando che appresso di cotale trattato bello era trattare alquanto d'amore e pensando che l'amico era da servire proposi di dire parole nelle quali io trattassi d'amore e allora dissi questo sonetto lo quale comincia amore e il cor gentil amore e il cor gentil sono una cosa sì come il saggio in suo dittare pone e così esser l'un senza l'altro osa con l'alma razional senza ragione falli natura quando è amorosa amor per sire e il cor per sua magione dentro la quale dormendo si riposa talvolta poca e tal lunga stagione biotate appare in saggia donna pui che piace agli occhi sì che dentro al core nasce un desio della cosa piacente e tanto dura talora in costui che far svegliar lo spirito d'amore e simil facce in donna omo valente questo sonetto si divide in due parti nella prima dico di lui in quanto è in potenzia nella seconda dico di lui in quanto di potenzia si riduce in atto la seconda comincia quivi biotate appare la prima si divide in due nella prima dico in che soggetto sia questa potenzia nella seconda dico siccome questo soggetto e questa potenzia siano prodotti in essere e come l'uno guarda l'altro come forma materia la seconda comincia quivi falli natura poscia quando dico biotate appare dico come questa potenzia si riduce in atto e prima come si riduce in uomo poi come si riduce in donna quindi e simil facce in donna quinta sezione della vita nuova di dante alighieri questa registrazione libri vox e di pubblico dominio quinta sezione dal capitolo ventuno al capitolo ventitré ventuno poscia che trattai d'amore nella soprascritta rima venne mi volontare di volere dire anche in lodo di questa gentilissima parole per le quali io mostrasse come per lei si sveglia questo amore e come non solamente si sveglia là ove dorme ma là ove non è in potenzia ella mirabilmente operando lo fa venire e allora dissi questo soneto lo quale comincia negli occhi porta negli occhi porta la mia donna amore perchè si fa gentil ciò che la mira ove la passa o non ver le si gira e cui saluta fa tremar lo core sicché bassando o viso tutto smore ed ogni suo difetto allor sospira fugge dinanzi a lei superbia ed ira aiutatemi donne farle onore ogni dolcezza ogni pensiero umile nasce nel core a chi parlar la sente ond'è laudata chi prima la vide quel ch'ella par quando un poco sorride non si può dicer né tenere a mente si è nuovo miracolo e gentile questo sonetto si ha tre parti nella prima dico siccome questa donna riduce questo potenzianato secondo la nobelissima parte dei suoi occhi e nella terza dico questo medesimo secondo la nobelissima parte della sua bocca e tra queste due parti è una particella che quasi domandatrice d'aiuto alla precedente parte era la seguente e comincia quivi aiutatemi donne la terza comincia quivi ogni dolcezza la prima si divide in tre nella prima parte dico siccome virtuosamente fai gentile tutto ciò che vede e questo è tanto a dire quanto inducere amore in potenzia là ove non è nella seconda dico come riduce annato amore negli cuori di tutti coloro cui vede nella terza dico quello che poi virtuosamente adopera nei loro cuori la seconda comincia quivi ove la passa la terza quivi e cui saluta poscia quando dico aiutatemi donne do a intendere a cui la mia intenzione è di parlare chiamando le donne che mi aiutino onorare costei poscia quando dico ogni dolcezza dico quello medesimo che detto è nella prima parte secondo due atti della sua bocca l'uno degli quali è lo suo dolcissimo parlare e l'altro lo suo mirabile riso salvo che non dico in questo ultimo come adopera negli cuori altrui però che la memoria non pote ritenere lui né sua operazione ventidue appresso ciò non molti dì passati siccome piacque al glorioso sire lo quale non negò la morte a sé colui che era stato genitore di tanta maraviglia quante si vedea che era questa nobilissima beatrice di questa vita uscendo alla gloria eternale se ne gioveraciamente onde conciò sia cosa che col tale partire sia doloroso a coloro che rimangono e sono stati amici di colui che se ne va e nulla sia sia intima amistade come da buon padre a buon figliolo e da buon figliolo a buon padre e questa donna fosse in altissimo grado di bontà e lo suo padre siccome da molti si crede e vero è fosse buono in alto grado manifesto è che questa donna fu amarissimamente piena di dolore e conciò sia cosa che secondo l'usanza della sopradetta città donne con donne e uomini con uomini s'adunino a cotale tristizia molte donne s'adunaro colà dove questa beatrice piangea pietosamente onde io veggendo ritornare alquante donne da lei udìu dicere loro parole di questa gentilissima com'ella si lamentava tra le quali parole udìu che diceano certo ella piange sì che quale la mia race dovrebbero morire di pietade allora trapassaro queste donne e io rimasi in tanta tristizia che alcuna lagrima talora bagnava la mia faccia onde io mi ricopria con porre le mani spesso ai miei occhi e se non fosse che io attendè a dire anche di lei però che io era un luogo onde se neggiano la maggior parte di quelle donne che da lei si partiano io mi sarei nascoso incontanente che le lagrime mi avveno assalito e però dimorando ancora nel medesimo luogo donne anche passaro presso di me le quali andavano ragionando tra loro queste parole chi dei mai essere liete di noi che avemmo udita parlare questa donna cosí pietosamente appresso costoro passaro altre donne che veniano dicendo questi che qui piange né più né meno come se l'avesse veduta come noi avemmo altre di poi dicendo di me vedi questi che non pare esso tale divenuto e cosí passando queste donne udio parole di lei e di me in questo modo che detto è onde io poi pensando propuosi di dire parole a ciò che degnamente avea cagione di dire nelle quali parole io conchiudesse tutto ciò che inteso avea da queste donne e però che volentieri l'avrei domandata se non mi fosse stata riprensione presi tanta materia di dire come se io l'avesse domandata ed elle mi avessero risposto e feci due sonetti che nel primo domando in quello modo che voglia mi giunse di domandare nell'altro dico la loro risponsione pigliando ciò che io udio da loro siccome lo mi avessero detto rispondendo e comincia lo primo voi che portate la sembianza umile e l'altro sei tu colui ch'hai trattato sovente voi che portate la sembianza umile con gli occhi bassi mostrando dolore onde venite che il vostro colore par divenuto di pietà simile vedeste voi nostra donna gentile bagnarne il viso suo di pianto amore ditelmi donne che mi dice il cuore perch'io vi vegio andar sanzato vile e se venite da tanta pietate piaccevi di restar qui mecco alquanto e qual che sia di lei non mi celate io vegio gli occhi vostri che hanno pianto e vegiovi tornar sì sfigurate che il cuore mi triema di vederne tanto questo sonetto si divide in due parti nella prima chiamo e domande queste donne se venino da lei dicendo loro che io lo credo però che torno quasi in gentilite nella seconda le prego che mi dicano di lei la seconda comincia qui vi e se venite qui appresso è l'altro sonetto siccome dinanzi avemo narrato sei tu colui che hai trattato sovente di nostra donna solparlando a noi tu risomigli alla voce ben lui ma la figura ne par d'altra gente e perchè piangi tu sicuramente che fai di te pietà venire altrui vedeste tu pianger lei che tu non puoi punto celarla dolorosamente lascia piangere a noi e triste andare e fa peccato chi mai ne conforta che no suo pianto l'udimo parlare e là nel viso la pietà si scorta che qual l'avesse voluta mirare sarebbe innanzi lei piangendo morta questo sonetto ha quattro parti secondo che quattro modi di parlare ebbero in loro le donne per cui rispondo e però che sono di sopra sai manifesti non mi intrametto di narrare la sentenzia delle parti e però le distinguo solamente la seconda comincia quivi e perchè piangi la terza lascia piangere a noi la quarta è là nel viso appresso ciò per pochi dì avvenne che in alcuna parte della mia persona mi giunse una dolorosa infermitade onde io continuamente soffersi per nove d amarissima pena la quale mi condusse a tanta debolezza che mi convenia stare come coloro li quali non si possono muovere io dico che nello nono giorno sentendo me doler quasi intolerabilmente a me giunse uno pensiero lo quale era della mia donna e quando ei pensato alquanto di lei ed io ritornai pensando alla mia debilitata vita e veggendo come leggero era lo suo durare ancora che sana fosse si cominciai a piangere fra me stesso di tanta miseria onde sospirando forte dicea fra me medesimo di necessitade convene che la gentilissima beatrice alcuna volta si muoia e però mi giunse uno si forte smarrimento che chiusi gli occhi e cominciai a travagliare si come farnetica persona ed a immaginare in questo modo che nello incominciamento dello errare che fece la mia fantasia apparvero a me certi visi di donne scapiliate che mi diceano tu pur murrai e poi dopo queste donne ma parvero certi visi diversi e orribili a vedere li quali mi diceano tu sei morto così cominciando ad errare la mia fantasia veni a quello che io non sapea ove io mi fosse e vedere mi parea donne andare scapiliate piangendo per via maravigliosamente triste e parea mi vedere lo sole oscurare sì che le stelle si mostravano di colore che le mi faceano giudicare che piangessero e parea mi che gli uccelli volando per l'aria cadessero morti e che fossero grandissimi terramuoti ammarvigliandomi in col tale fantasia e paventando assai immaginai alcuno amico che mi venisse a dire or non sai la tua mirabile donna è partita di questo secolo allora cominciai a piangere molto pietosamente e non solamente piangea nell'immaginazione ma piangea con gli occhi bagnandoli di vere lagrime io immaginava di guardare verso lo cielo e parea mi vedere moltitudine d'angeli li quali tornassero in suso ed aveano dinanzi da loro una nebuletta bianchissima a me parea che questi angeli cantassero gloriosamente e le parole del loro canto mi parea udire che fossero queste osanne excelsis er altro non mi parea udire allora mi parea che lo cuore ovvero tanto amore mi dicesse vero è che morta giace la nostra donna e per questo mi parea andare per vedere lo corpo nello quale era stata quella nobilissima e beata anima e fu e si forte la erronea fantasia che mi mostrò questa donna morta e pareami che donne la covrissero cioè la sua testa con uno bianco velo e pareami che la sua faccia avesse tanto aspetto d'umiltade che parea che dicesse io sono a vedere lo principio della pace in quest'immaginazione mi giunse tanto militade per vedere lei che io chiamava la morte e dicea dolcissima morte vieni a me e non m'essere vilana però che tu dei essere gentile e in tal parte sei stata or vieni a me che molto ti desidero e tu lo vedi ch'io porta già lo tuo colore e quando io avea veduto compiere tutti li dolorosi mestieri che le corpora degli morti s'usano di fare mi parea tornare nella mia camera e quivi mi parea guardare verso lo cielo e si forte era la mia immaginazione che piangendo cominciai a dire con verace voce oi anima bellissima come beato colui che ti vede e dicendo io queste parole con doloroso singulto di pianto e chiamando la morte che venisse a me una donna giovane e gentile la quale era lungo lo mio letto credendo che lo mio piangere e le mie parole fossero solamente per lo dolore della mia infermitade con grande paura cominciò a piangere onde altre donne che per la camera erano soccorsero di me che io piangea per lo pianto che vedeano fare a questa onde facendo lei partire da me la quale era mecca di propinquissima sanguinità decongiunta e le si trassero verso me per risvegliarmi credendo che io sognasse e diceanmi non dormire piú e non ti sconfortare e parlandomi cosí si mi cessò la forte fantasia entro in quello punto che io volea dicere o beatrice benedetta sia tu e già detto avea o beatrice quando riscoltendomi ha persi occhi e vidi che io era ingannato e con tutto che io chiamasse questo nome la mia voce era sí rotta dal singulto del piangere che queste donne non mi pottero intendere secondo il mio parere e avvenia che io vergognasse molto tuttavia per alcuno ammonimento d'amore mi rivolsi a loro e quando mi videro cominciaro a dire questi pare morto e a dire tra loro procuriamo di confortarlo onde molte parole mi diceano da confortarmi et allora mi domandavano di che io avesse avuto paura onde io essendo alquanto riconfortato e conosciuto lo fallace immaginare rispuosi a loro io vi diroe quello ch'io oe avuto allora cominciandomi dal principio e fino alla fine dissi loro quello che veduto avea tacendo lo nome di questa gentilissima onde poi sanato di questa mia infermitade propuosi di dire parole di questo che mi era divenuto però che mi parea che fosse amorosa cosa da udire e però ne dissi questa canzone donna pietosa e di novelle etate ordinata sí come manifesta la infrascrita divisione donna pietosa e di novelle etate adorna assai di gentilezze umane che era lá vio chi amava spesso morte veggendo gli occhi miei pien di pietate e ascoltando le parole vane si mosse con paura a pianger forte e altre donne che si furono accorte di me per quella che mecco piangia fecer lei partir via e appressarsi per farmi sentire quodicea non dormire e quodicea perchè sì ti sconforte allor lassai la nuova fantasia chiamando il nome della donna mia era la voce mia sì dolorosa e rotta sì dall'angoscia del pianto ch'io solo intesi il nome nel mio core e con tutta la vista vergognosa ch'era nel viso mio giunta col tanto mi fece verso lor volgere amore elli era tale a vedermi il colore che facea ragionar di morte altrui de consoliam costui pregava l'una l'altra umilemente e dicevan sovente che vedest tu che tu non hai valore e quando un poco confortato fui io dissi donne dicerolo a voi mentre io pensava la mia frale vita e vedeo sudurar come leggero piantemi a morno il cuore ove dimora perchè l'anima mia fu sì smarrita che sospirando dicea nel pensiero ben converrà che la mia donna mora io presi tanto smarrimento allora ch'io chiusi li occhi vilmente gravati e furan sì smagati i spiriti miei che ciascun giva errando e poscia immaginando di conoscenza e di verità fora visi di donne mi apparve cruciati che mi dicean pur morati morati poi vidi cose dubitose molte non vanno immaginare ovvio entrai ed essermi parea non so in qual loco e veder donne andar per via disciolte qual lagrimando e qual traendo guai che di tristizia saietavan foco poi mi parve vedere a poco a poco turbar lo sole era apparir la stella e piangere elli ed ella caderli al geli volando per l'are e la terra tra mare ed omo apparve scolorito e fiocco dicendomi che fai non sai novella morta ella donna tua ch'era sì bella lavava gli occhi miei bagnati in pianti e vedea che parean pioggia di mana gli angeli che tornavan suso in cielo ed una nuvoletta avean davanti dopo la qual gridavan tutti osana e s'altro avesser detto a voi direlo allora diceva amore piu noti cielo vieni a veder nostra donna che giace lo immaginar falace mi condusse a veder madonna morta e quand'io l'avea scorta vedea che donne lo covriano d'un velo ed avea secco umiltà verace che parea che dicesse io sono in pace io divenia nel dolor sì umile veggendo in lei tanta umiltà formata ch'io dicea morte assai dolce ti tegno tu dei ormai esser cosa gentile poiché tu sei nella mia donna stata e dei aver pietata in un disdegno vedi che si desideroso venio d'esser dei tuoi che io ti somiglio in fede vieni che il cor te chiede poi mi partia consumato ogni duolo e quand'io era solo dicea guardando verso l'alto regno beato anima bella chi ti vede voi mi chiamaste allora vostra mercede questa canzone ha due parti nella prima dico parlando a indefinita persona come io fui levato d'una vana fantasia da certe donne e come promisi loro di dirla nella seconda dico come io dissi a loro la seconda comincia quivi mentre io pensava la prima parte si divide in due nella prima dico quello che certe donne e che una sola dissero e fecero per la mia fantasia quant'è dinanzi che io fossi tornato in verace condizione nella seconda dico quello che queste donne mi dissero poiché io lasciai questo farneticare e comincia questa parte quivi era la voce mia poscia quando dico mentre io pensava dico come io dissi loro questa mia immaginazione ed intorno a ciò foi due parti nella prima dico per ordine quest'immaginazione nella seconda dicendo a che ora mi chiamaro le ringrazio chiusamente e comincia qui di questa parte voi mi chiamaste fine della quinta sezione sesta sezione della vita nuova di dante alighieri dal capitolo ventiquattro al capitolo ventisette questa registrazione librivox e di pubblico dominio ventiquattro appresso questa vana immaginazione avvenne uno die che sedendo io pensoso in alcuna parte ed io mi sentio cominciare un tremuoto nel cuore così come se io fosse stato presente a questa donna allora dico che mi giunse un immaginazione d'amore che mi parve vederlo venire da quella parte ove la mia donna stava e pareami che liettamente mi dicesse in al cuore mio pensi di benedicere lo di che io ti presi però che tu lo dei fare e certo mi parea avere lo cuore si lieto che me non parea che fosse lo mio cuore per la sua nuova condizione e poco dopo queste parole che lo cuore mi disse con la lingua d'amore io vidi venire verso me una gentile donna la quale era di famosa beatade e fu già molto donna di questo primo mio amico e lo nome di questa donna era giovanna salvo che per la sua beatade secondo che altri crede imposto l'era nome primavera e così era chiamata e presso lei guardando vidi venire l'amirabile beatrice queste donne andarono presso di me così l'una presso l'altra e parve che amore mi parlasse nel cuore e dicesse quella prima è nominata primavera solo per questa venuta d'oggi che io mossi lo imponitore dal nome a chiamarla così primavera cioè primavera lo die che beatrice si mostrerà dopo la immaginazione del suo fedele e se anche voli considerare lo primo nome suo tanto è quanto dire primavera però che lo suo nome giovanna e da quello giovanni lo quale precedette la verace luce dicendo ego vox clamantis in deserto parate via domini ed anche mi parve che mi dicesse dopo queste parole e chi volesse sottilmente considerare quella beatrice chiamerebbe amore per molta similianza che ameco onde io poi ripensando propuosi di scrivere per rima allo mio primo amico tacendomi certe parole le quali pareano da tacere credendo io che ancora lo suo cuore mirasse la beatrice di questa primavera gentile e dissi questo soneto lo quale comincia io mi senti svegliar dentro allo cuore un spirito amoroso che dormia e poi vidi venir da lungi amore allegro sì che appena il conoscia dicendo or pensa pur di farmi onore e ciascuna parola sua ridia e poco stando mecco il mio signore guardando in quella parte onde venia io vidi monna vanna e monna bice venire in verlo loco là ovvio era l'una appresso dall'altra maraviglia e siccome la mente mi ridice amor mi disse quell'è primavera e quella nome amor sì mi somiglia questo soneto ha molte parti la prima delle quali dice come io mi senti svegliare lo tremore usato nel cuore e come parve che amore mi apparisse allegro nel mio cuore da lunga parte la seconda dice come mi parea che amore mi dicesse nel mio cuore e quale mi parea la terza dice come poiché questi fueo quanto stato mecco cotale io vidi e udio certe cose la seconda parte comincia quivi dicendo or pensa la terza quivi e poco stando la terza parte si divide in due nella prima dico quello che io vidi nella seconda dico quello che io odio la seconda comincia quivi amor mi disse venticinque potrebbe qui dubitare persona degna da dichiararle o ne dubitazione e dubitare potrebbe di ciò che io dico d'amore come se fosse una cosa per sé e non solamente sostanzia intelligente ma sì come fosse sostanzia corporale la quale cosa secondo la verità è falsa che amore non è per sé sì come sostanzia ma è uno accidente in sostanzia e che io dica di lui come se fosse corpo ancora sì come se fosse uomo appare per tre cose che dico di lui dico che lo vidi venire onde con ciò sia cosa che venire dica molto locale e localmente mobile per sé secondo lo filosofo sia solamente corpo appare che io ponga amore essere corpo dico anche di lui che ridea e anche che parlava le quali cose paiono essere proprie dell'uomo e specialmente essere risibile e però appare che io ponga lui essere uomo a cotale cosa dichiarare secondo che è buono a presente prima è da intendere che anticamente non erano dicitori d'amore in lingua volgare anzi erano dicitori d'amore certi poete in lingua latina tra noi dico avvenia forse che tra altra gente advenisse e advenia ancora sì come in grecia non volgari ma litterati poete queste cose trattavano e non è molto numero d'anni passati che apparirò prima questi poete volgari che dire per rima in volgare tanto è quanto dire per versi in latino secondo alcuna proporzione è segno che sia picciolo tempo e che se volemmo cercare in lingua d'occo e in quella di sì noi non troviamo cose dette anzi lo presente tempo per cento e cinquanta anni e la cagione perché o quanti grossi ebbero fama di sapere dire e che quasi fuoro li primi che dissero in lingua di sì e lo primo che cominciò a dire sì come poeta volgare si mosse però che volle fare intendere le sue parole a donna alla quale era malegevole d'intendere li versi latini e questo è contra coloro che rimano sopra altra materia che amorosa con ciò sia cosa che co tale modo di parlare fosse dal principio trovato per dire d'amore onde con ciò sia cosa che agli poete sia conceduta maggiore licenza di parlare che agli prosaici dittatori e questi dittatori per rima non siano altro che poete volgari degno e ragionevole e che a loro sia maggiore licenza largita di parlare che agli altri parlatori volgari onde se alcuna figura o colore retorico è conceduto agli poete conceduto è agli rimatori dunque se noi vedemo che gli poete hanno parlato alle cose inanimate sì come se avessero senso e ragione e fatele parlare insieme e non solamente cose vere ma cose non vere cioè che detto hanno di cose le quali non sono che parlano e detto che molti accidenti parlano sì come se fossero sostanzie ed uomini degno è lo dicitore per rima di fare lo somigliante ma non senza ragione alcuna ma con ragione la quale poi sia possibile d'aprire per prosa che li poete abbiano così parlato come detto è appare per virgilio lo quale dice che iuno cioè una dea nemica degli troiani parlòe ad eolo signore degli venti quivino primo dello e neida eole nam quei tibi e che questo signore le rispose quivi tus o regina quid optes explorare labor mihi iussa capessere fas est per questo medesimo poeta parla la cosa che non è animata alle cose animate nel terzo dello e neida quivi per lucano parla la cosa animata alla cosa inanimata quivi mutum roma tamen debis civilibus armis per orazio parla l'uomo alla sua scienzia medesima sì come ad altra persona e non solamente sono parole d'orazio ma dicele quasi recitando lo modo del buono omero quivi nella sua poetria dic mihi musa virum per ovidio parla amore sì come se fosse persona umana nello principio dello libro ca' nome libro di remedio d'amore quivi e per questo potrei essere manifesto a chi dubita in alcuna parte di questo mio libello e a ciò che non ne pigli alcuna baldanza persona grossa dico che né li poete parlavano così senza ragione né quelli che rimano deano parlare così non avendo alcuno ragionamento in loro di quello che dicono però che grande vergogna sarebbe a colui che rimasse cose sotto vesta di figura o di colore retorico e poscia domandato non sapesse denudare le sue parole da cotale vesta in guisa che avessero verace intendimento e questo mio primo amico e io ne sapemmo bene di quelli che così rimano stoltamente ventisei questa gentilissima donna di cui ragionato è nelle precedenti parole venne in tanta grazia delle genti che quando passava per via le persone correano per vedere lei ondemirabile letizia me ne giungea e quando ella fosse preso d'alcuno tanto onestate giungea nel cuore di quello che non ardia di lavare gli occhi né di rispondere allo suo saluto e di questo molti siccome esperti mi potrebbero testimoniare a chi non lo credesse ella coronata e vestita d'umiltade s'andava nulla gloria mostrando di ciò che ella vedea e udia diceano molti poiché passata era questa non è femmina anzi è uno degli bellissimi angeli del cielo e altri diceano questa è una maraviglia che benedetto sia lo signore che si mirabilemente sai adoperare io dico che ella si mostrava si gentile e si piena di tutti i piaceri che quelli che l'ammiravano comprendeano in loro una dolcezza onesta e soave tanto che ridicere non lo sapeano né alcuno era lo quale potesse mirare lei che nel principio non convenisse sospirare queste e più mirabili cose da lei procedeano virtuosamente onde io pensando a ciò volendo ripigliare lo stilo della sua loda propuosi di dicere parole nelle quali io dessi ad intendere dalle sue mirabili ed eccellenti operazioni a ciò che non pur coloro che la potenno sensibilmente vedere ma gli altri sappiano di lei quello che le parole ne possono fare intendere allora dissi questo sonetto lo quale comincia tanto gentile tanto gentile e tanto onesta pare la donna mia quando ella altrui saluta che ogni lingua deve intramando muta e gli occhi non l'ardiscono di guardare ella si va sentendosi laudare benignamente d'umiltà vestuta e par che sia una cosa venuta da cielo in terra a miracol mostrare mostrasi si piacente a chi l'ammira che da per gli occhi una dolcezza al core che intender non la può chi non la prova e par che della sua labia si muova un spirito soave pien d'amore che va dicendo all'anima sospira questo sonetto è sì piano ad intendere per quello che è narrato ed inanzi che non ha bisogno ad alcuna divisione e però lassando lui dico che questa mia donna venne in tanta grazia che non solamente ella era onorata e laudata ma per lei erne onorata e laudata molte ond'io veggendo ciò e volendo manifestare a chi ciò non vedea propuosi anche di dire parole nelle quali ciò fosse significato e dissi allora questo altro sonetto che comincia vede perfettamente ogni salute lo quale narra di lei come la sua vertude adoperava nell'altre si come appare nella sua divisione vede perfettamente ogni salute chi la mia donna tra le donne vede quelle che vanno con lei son tenute di bella grazia a dio render mercede e sua bialtate e di tanta vertute che nulla invidia all'altre ne procede anzi le faccia andar secco vestute di gentilezza d'amore e di fede la vista sua fa ogni cosa umile e non fa sola sé parer piacente ma ciascuna per lei riceve onore ed è negli atti suoi tanto gentile che nessun ma si può recare a mente che non sospiri in dolcezza d'amore questo sonetto ha tre parti nella prima dico tra che gente questa donna più mirabile parea nella seconda dico siccome era graziosa la sua compagnia nella terza dico di quelle cose che virtuosamente operavano altrui la seconda parte comincia quivi quelle che vanno la terza quivi e sua bialtate questa ultima parte si divide in tre nella prima dico quello che operava nelle donne cioè per loro medesime nella seconda dico quello che operava in loro per altrui nella terza dico come non solamente nelle donne ma in tutte le persone e non solamente nella sua presenza ma ricordandosi di lei mirabilmente operava la seconda comincia quivi la vista sua e la terza quivi ed è negli atti ventisette appresso ciò cominciai a pensare uno giorno sopra quello che detto avea della mia donna cioè in questi due sonetti precedenti e leggendo nel mio pensiero che io non avea detto di quello che al presente tempo adoperava in me parea mi defettivamente avere parlato e però propuosi di dire parole nelle quali io dicessi come me parea essere disposto alla sua operazione e come operava in me la sua virtude e non credendo potere ciò narrare in brevitare di sonetto cominciai allora una canzone la quale comincia si lungamente si lungamente m'ha tenuto amore e costumato alla sua signoria che si com'elli m'era forte e impria così mi sta soave ora nel core però quando mi tolle sil valore che li spiriti par che fuggan via allor sentele fra l'anima mia tanta dolcezza che l viso ne smore poi prende amore in me tante vertute che fa li miei sospiri gir parlando ed escan fuor chiamando la donna mia per darmi più salute questo ma vene ovunque ella mi vede e sia cosa umil che non si crede sezione della vita nuova di dante alighieri dal capitolo ventotto al capitolo trenta tre questa registrazione libri vox e di pubblico dominio ventotto quomodo sedet sola civitas plena populo facta est quasi vidua domina gentium io era nel proponimento ancora di questa canzone e compiutene avea quasi soprascritta stanzia quando lo signore della giustizia chiamò e questa gentilissima a gloriare sotto la insegna di quella regina benedetta virgo maria lo cui nome fue in grandissima reverenzia nelle parole di questa beatrice beata è avvenia che forse piacerebbe al presente trattare alquanto della sua partita da noi non è lo mio intendimento di trattarne qui per tre ragioni la prima è che ciò non è del presente proposito se volemmo guardare nel proemio che precede questo libello la seconda si è che posto che fosse del presente proposito ancora non sarebbe sufficiente la mia lingua a trattare come si converrebbe di ciò la terza si è che posto che fosse l'uno e l'altro non è convenevole a me trattare di ciò per quello che trattando converrebbe essere me l'audatore di me medesimo la quale cosa è al postuto biasimevole a chi lo fai e però lascio cotale trattato ad un altro chiosatore tuttavia però che molte volte lo numero del nove ha preso luogo tra le parole di nanzi onde pare che sia non senza ragione e nella sua partita cotale numero pare che avesse molto luogo convenesi di dire quindi alcuna cosa a ciò che pare al proposito convenirsi onde prima dicerò come ebbe luogo nella sua partita e poi ne segnerò alcuna ragione perchè questo numero fue a lei cotanto amico 29 io dico che secondo l'usanza d'arabia l'anima sua nobilissima si partio nella prima ora del nonno giorno del mese e secondo l'usanza di siria ella si partio nel nonno mese dell'anno però che lo primo mese e ivi tirisi in primo lo quale a noi è ottobre e secondo l'usanza nostra ella si partio in quello anno della nostra indizione cioè degli anni dominì in cui lo perfetto numero nove volte era compiuto in quello centinaio nel quale in questo modo ella fue posta ed ella fue degli cristiani del terzo decimo centinaio perchè questo numero fosse intanto amico di lei questa potrebbe essere una ragione conciò sia cosa che secondo tolomeo e secondo la cristiana veritade nove siano li cieli che si muovono e secondo comune opinione astrologa li detti cieli adoperino qua guiso secondo la loro abitudine insieme questo numero fue amico di lei per dare ed intendere nella sua generazione tutti e nove gli immobili cieli perfettissimamente s'aveano insieme questa è una ragione di ciò ma più sottilmente pensando e secondo la infallabile veritade questo numero fue ella medesima per similitudine dico e ciò intendo così lo numero del tre è la radice del nove però che senza numero altro alcuno per sé medesimo fa nove siccome vedemo manifestamente che tre via tre fa nove dunque se lo tre fattore per sé medesimo del nove e lo fattore per sé medesimo degli miracoli e tre cioè padre e figlio e spirito santo li quali sono tre e uno questa donna fu accompagnata fu accompagnata da questo numero del nove a dare ed intendere che ella era uno nove cioè uno miracolo la cui radice cioè del miracolo è solamente la mirabile trinitade forse ancora per più sottile persona si vedrebbe in ciò più sottile ragione ma questa è quella che io ne veggio e che più mi piace poiché fu partita da questo secolo rimase tutta la sopradetta cittade quasi vedova dispogliata da ogni dignitade onde io ancora lagrimando in questa desolata cittade scrissi agli principi della terra alquanto della sua condizione pigliando quello comincimento di geramia profetta che dice quomodo sedet sola civitas e questo dico a ciò che altri non si maravigli perché io l'abbia allegato di sopra quasi come entrata della nuova materia che appresso vene e se alcuno volesse me riprendere di ciò che io non scrivo quelle parole che seguitano a quelle allegate scusomene però che lo intendimento mio non fu ed al principio di scrivere altro che per vogare onde con ciò sia cosa che le parole che seguitano a quelle che sono allegate siano tutte latine sarebbe fuori dal mio intendimento se le scrivessi e simile intenzione so che ebbe questo mio primo amico a cui io ciò scrivo cioè ch'io li scrivessi solamente vogare 31. Poiché i miei occhi ebbero però quanto tempo lagrimato e tanto affaticati erano che non poteano disfogare la mia tristizia pensai di volere disfogarla con alcune parole dolorose e però proposi di fare una canzone nella quale piangendo ragionassi di lei 32. Per cui tanto dolore era fatto distrugitore dall'anima mia e cominciai allora una canzone la quale comincia gli occhi dolenti per pietà dal cuore 33. E a ciò che questa canzone paia rimanere più verva dopo lo suo fine la dividerò prima che io la scriva e cotale modo terrò da qui innanzi 34. Io dico che questa cattivella canzone ha tre parti 35. La prima è proemio 36. Nella seconda ragiono di lei 36. Nella terza parlo alla canzone pietosamente 37. La seconda parte comincia quivi 38. Ittane Beatrice 39. La terza quivi 39. Pietosa mia canzone 40. La prima parte si divide in tre 41. Nella prima dico perché io mi muovo a dire 41. Nella seconda dico a cui io voglio dire 42. Nella terza dico di cui io voglio dire 42. La seconda comincia quivi 42. E perché me ricorda 43. La terza quivi 43. E dicerò 44. Poscia quando dico 45. Ittane Beatrice 45. Ragiono di lei 45. E intorno a ciò foe due parti 46. Prima dico la cagione perché toltene fue 46. Appresso dico come altri si piange della sua partita 46. E comincia questa parte quivi 47. Questa parte si divide in tre 47. Nella prima dico chi non la piange 48. Nella seconda dico chi la piange 48. Nella terza dico della mia condizione 49. La seconda comincia quivi 49. Ma ventre stizia e voglia 50. La terza quivi 50. Danno mia angoscia 50. Poscia quando dico 50. Pietosa mia canzone 50. Parlo a questa canzone 51. Disegnandole a quali donne se ne vada 51. E steasi con loro 51. Gli occhi dolenti per pietà dal core 51. Hanno di lagrimar sofferta pena 52. Sì che per vinti son rimasi o mai 52. Ora, si voglio sfogarlo dolore 52. Che a poco a poco alla morte mi mena 52. Convene mi parlar traendo guai 52. E perché me ricorda 52. Ch'io parlai della mia donna 53. Mentre che vivia 53. Donne gentili volentier con vui 53. Non vuoi parlare adrui 53. Se non a cor gentil che in donna 54. E dicerò di lei piangendo 54. Pui che si ne gita in ciel subitamente 54. E ha lasciato amor mecco dolente 55. Itta né Beatrice in alto cielo 55. Noreame ove gli angeli hanno pace 55. E sta con loro e voi donne 55. Allassate 56. Non la citose qualità di gelo 56. Né di colore 56. Come l'altre face 56. Ma solo fu e sua gran benignitate 56. Che luce della sua umiltate 56. Passò li cieli con tanta virtute 57. Che fè maravigliar 57. L'eterno sire 58. Sì che dolce desire 58. Lo giunse di chiamar tanta salute 59. E fella di qua giù a sé venire 59. Perché vedea che esta vita noiosa 59. Non era degna di sì gentil cosa 59. Partissi della sua bella persona 60. Piena di grazia 60. L'anima gentile 61. Ed essi gloriosa 61. Un loco degno 62. Chi non la piange 62. Quando ne ragiona 63. Corea di pietra 63. Si malvagio e vile 63. Ch'entrar noi puote 64. Spirito benegno 64. Non è di corvilanzi 64. Alto ingegno 65. Che possa immaginar 65. Di lei alquanto 66. E però 66. Non li ven di pianger 66. Ma ven tristizia 66. E voglia 66. Di sospirare 66. E di morir 66. E donne 66. Consolar l'anima spoglia 66. Chi vede nel pensiero 66. Quale 66. E la fúe 66. E com'ella 66. N'è tolta 66. D'anno 66. Mi angoscia 66. Li sospiri 66. Quando 66. L'pensiero 66. Nella mente 66. Mi recca 66. Quella 66. Che m'ha 66. E spesse 66. Fiate 66. Pensando 66. La morte 66. Venemene 66. Un disio 66. Tanto 66. Soave 66. Che mi 66. Mi tramuta 66. Lo color 66. Nel viso 66. E quando 66. L'imaginar 66. Mi ven 66. Ben fiso 66. Giugniammi 66. Tanta pena 66. D'ogni parte 66. Ch'io mi riscuoto 66. Per dolor 66. Ch'io sento 66. E si 66. Fatto 66. Di vento 66. Che dalle 67. Genti 66. Vergogna 67. Mi parte 67. Poscia 67. Piangendo 67. Sonno 67. Mi lamento 67. Chiamo Beatrice 68. E dico 68. Or 68 sei tu morta? 68. E mentre 68. Ch'io 68 la chiamo 68. Mi conforta 68. Pianger 69 di dolia 69 e sospirar 69 d'angoscia 69 mi strugge 69 cor 69 ovunque 69 mi trovo 69 si che 69 n'increscerebbe a chi maldesse 69 e quale è stata la mia vita 69 poscia che la mia donna andò nel secolo nuovo. Lingua non è che dicer lo sapesse e però non è mie. Pur ch'io volesse non vi saprei io dir ben quel ch'io sono. Si mi fa travagliar la cerba vita la quale è sinvilita che ogni om par che mi dica io t'abbandono veggendo la mia labia tramortita ma qual ch'io sia la mia donna il si vede ed io ne spero ancor dalle merzede pietosa mia canzone or va piangendo e ritrova le donne e le donzelle a cui le tue sorelle erano usate di portar letizia e tu che sei figliuola di tristizia vatten disconsolata a star con elle. 32 Poiché detta fue questa canzone si venne a me uno lo quale secondo li gradi dell'amistade e amico a me immediatamente dopo lo primo e questi fue tanto distretto di sanguitare con questa gloriosa che nullo più preso l'era e poiché fue mecco a ragionare mi pregoe ch'io li dovesse dire alcuna cosa per una donna che sera morta e simulava sue parole a ciò che paresse che dicesse d'un'altra la quale morta era certamente onde io accorgendomi che questi dicea solamente per questa benedetta si li dissi di fare ciò che mi domandava lo suo prego onde poi pensando a ciò proposi di fare uno sonetto nel quale mi lamentasse alquanto e di darlo a questo mio amico a ciò che paresse che per lui l'avessi fatto e dissi allora questo sonetto che comincia venite a intender li sospiri miei lo quale a due parti nella prima chiamo li fedeli d'amore che mi intendono nella seconda narro della mia misera condizione la seconda comincia quivi li quai disconsolati venite a intender li sospiri miei oi cor gentili che pietà disia li quai disconsolati vanno via e se non fosser di dolor morrei però che gli occhi mi sarebber rei molte fiate più ch'io non vorria la so di piangersi la donna mia che sfogasser lo cor piangendo lei voi udirete lor chiamar sovente la mia donna gentil che si negita al secco degno de la sua vertute e di spregiartelora questa vita in persona de l'anima dolente abbandonata de la sua salute poiché detto questo sonetto pensandomi chi questi era a cui lo intendea dare quasi come per lui fatto vidi che povero mi pare lo servigio e nudo a così distretta persona di questa gloriosa e però anzi ch'io li dessi questo soprascritto sonetto si dissi due stanzie d'una canzone l'una per costui veraciamente e l'altra per me avegna che paia l'una e l'altra per una persona detta a chi non guarda sottilmente ma chi sottilmente le mira vede bene che diverse persone parlano a ciò che l'una non chiama sua donna coste e l'altra sì come appare manifestamente questa canzone dicendo io lui che per lui solo ho fatto la vea la canzone comincia quantuque volte e a due parti ne l'una cioè ne la prima stanzia si lamenta questo mio caro e distretto a lei ne la seconda mi lamento io cioè ne l'altra stanzia si comincia e si raccoglie ne li miei e così appare che in questa canzone si lamentano due persone l'una delle quali si lamenta come frate l'altra come quantunque volte la so mi rimembra ch'io non debo giamai veder la donna ond'io fossi dolente tanto dolore intorno cor mi assembra la dolorosa mente ch'io dico anima mia che non ten vai che li tormenti che tu porterai nel secco che te già tanto noio mi fan pensoso di paura forte ond'io chiamo la morte come soave e dolce mio riposo e dico vieni a me con tanto amore che sono astioso di chiunque more e si raccoglie negli miei sospiri un sonno di pietate che va chiamando morte tuttavia a lei si volser tutti i miei disiri quando la donna mia fu giunta della sua crudelitate perché il piacere della sua biotate partendose dalla nostra veduta divenne spiritual bellezza grande che per lo cielo spande luce d'amor che li angeli saluta e lo intelletto loro alto sottile facce maravigliar si vè gentile fine della settima sezione ottava sezione della vita nuova di Dante Elighieri questa registrazione LibriVox e di pubblico dominio dal capitolo trentaquattro al capitolo trentanove trentaquattro in quello giorno nel quale si compiea l'anno che questa donna era fatta degli cittadini di vita eterna io mi sedea in parte nella quale ricordandomi di lei disegnava uno angelo sopra certe tavolette e mentre io lo disegnava volsi gli occhi e vidi lungo me uomini a li quali si convenia di fare onore e riguardavano quello che io facea e secondo che me fu detto poi e li erano stati già quanto anzi che io me ne accorgesse quando li vidi mi levai e salutando loro dissi altriere testemecco però pensava onde partiti costoro ritornai alla mia opera cioè del disegnare figure d'angeli e facendo ciò mi venne uno pensiero di dire parole quasi per anno vale e scrivere a costoro li quali erano venuti a me e dissi allora questo soneto lo quale comincia era venuta lo quale ha due cominciamenti e però lo dividerò secondo l'uno e secondo l'altro dico che secondo lo primo questo soneto ha tre parti nella prima dico che questa donna era già nella mia memoria nella seconda dico quello che amore però mi facea nella terza dico degli affetti d'amore la seconda comincia quivi amor che la terza quivi piangendo uscivan for questa parte si divide in due nell'una dico che tutti li miei sospiri uscivano parlando e